Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di una scarpa che mi ha sorpreso davvero tanto. Sto parlando della Topo MT5, un modello ideale per affrontare i sentieri di montagna, dalla corsa all'escursionismo leggero, ma anche per un contesto ibrido dall'asfalto al trail. La MT5 si conferma la proposta più versatile della collezione Topo, rivolta a chi si ha la ricerca di un'opzione abbastanza ammortizzata da sfruttare su terreni da misti a moderati. Andiamo a vederla meglio insieme, partiamo da qualche dettaglio tecnico. Il peso di questa scarpa è di 272 grammi nella versione maschile numero 42 e di 221 grammi nella versione femminile numero 38. Abbiamo un drop di 5 mm ed è aumentata l'altezza da terra rispetto alla precedente versione. Abbiamo 29 mm sul tallone e 24 mm sull'avampiede, più accessibile, confortevole e protettiva, soprattutto per i trail runner che sono i primi approcci con i drop bassi. Partiamo da scriverla dalla suola in Vibram XS Trek Evo. Questa suola offre un'incredibile aderenza e protezione su un'ampia varietà di superfici da sfruttare su terreni da misti a moderati. L'ho provata sia in condizioni di asciutto che di bagnato, su terreni abbastanza corribili, quindi poderali, sterrati, non terreni molto tecnici. Qui da me in collina sono sentieri abbastanza veloci e corribili, però non mi ha dato problemi di aderenza e devo dire che ti dà un'ottima stabilità. A me personalmente questo spazio che offre la scarpa al piede di muoversi liberamente piace molto perché mi dà la sensazione di una corsa naturale ed è una delle caratteristiche principali della scarpa a topo. Abbiamo poi infine una conchiglia che nonostante sia abbastanza minimal dà molto sostegno ed avvolge bene il tallone, a me piace molto. È anche dotata di due attacchi sul tallone e di un terzo anello alla base della linguetta compatibili con la ghetta performance del brand insieme ad alette distanziate sulla suola per contrastare l'accumulo di fango, detriti e nere. Quindi come dicevo prima, avendola provata anche su terreni fangosi, io mi sono trovato davvero bene e la scarpa drena molto. Passiamo poi alla calzata di questa scarpa che è una delle caratteristiche principali che ha reso popolare l'azienda topo. L'ampio spazio in punta, come dicevo prima, offre un maggiore spazio alle dita di distendersi e attivarsi, mentre il piede resta comunque stabilmente sicuro nella parte centrale e nell'area del tallone, favorendo così una rullata abbastanza agile. È una scarpa versatile che si adatta a un'ampia gamma di sportivi, sia quelli che amano correre, sia quelli che amano camminare in montagna. Gli atleti di peso medio o addirittura pesante, più di 75 kg più o meno, potranno sfruttare al meglio le prestazioni della scarpa. È stata progettata per correre a ritmi medio, addirittura lenti e su qualsiasi tipo di distanza, da quelle brevi a quelle lunghe, essendo secondo me la distanza media quella che meglio si adatta alle sue caratteristiche, 35-50 km. È una scarpa inoltre con un drop relativamente basso, come dicevo prima, 5 mm. Quindi consiglio questa scarpa ai corridori con una buona tecnica di corsa, perché se uno corre male rischia davvero di farsi del male. In breve si tratta di una scarpa che si distingue per la sua versatilità, e l'uso polivalente in montagna, sia per la corsa che per la camminata, e che mantiene la filosofia del running naturale, che definisce molti dei modelli del marchio. È comunque una scarpa progettata per correre a ritmi medio-lenti, quando provo ad aumentare la velocità, si tende a fare fatica, a mantenere certi ritmi, ma per allenamenti a bassa intensità, secondo me, rimane un'ottima alternativa e la utilizzerò sicuramente. Questa scarpa, secondo me, è ideale per correre su terreni misti, trasterrati, poderali, o comunque non troppo tecnici. Non troppo tecnici perché il piede, avendo molto spazio all'interno della scarpa, di muoversi, si rischia di non avere un appoggio così preciso, quindi anche per quello eviterei terreni di vera montagna. Il grip è ottimo anche su fango, la scarpa, come dicevo prima, sento che scarica bene, ha un'ottima tenuta anche quando piove. La consiglio quindi sia a persone che si affacciano per la prima volta al mondo del trail running, che hanno comunque una buona tecnica di corsa perché il drop è comunque basso, sia a runner esperti che mettono a primo posto la comodità e il confronto nella corsa. Spero che il video vi sia stato utile, se non l'avete ancora fatto mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buone corse!